buongiorno oggi parleremo di un uccello rapace della famiglia di titonidae la specie titus alba ovvero il barba gianni presente nelle zone boschive di tutto il mondo eccetto l'antartide presenta un piumaggio bianco nel petto e nella testa simpaticamente definito a forma di cuore perché ricorda proprio un cuore occhi neri becco grigiastro zampe nere con artiglie molto appuntiti caratteristica tipica comunque degli uccelli rapaci e un piumaggio sopra la testa e le ali marroncine con striature nere la riproduzione di questo animale ovviamente è ovipa come tutti gli uccelli la femmina depone quattro uova di solito negli anfratti e i cuccioli quando nascono solo bianchi spelacchiati anche con intorno alla testa qualche macchiolina rosa scomparirà molto presto per raggiungere appunto la magnifica livrea di questo uccello che secondo me è uno dei più eleganti in assoluto la dieta di questo animale è semplicissima si nutre soprattutto di rane e topi e talpe è un super predatore vale a dire non ha nemici naturali in natura cosa che io sinceramente non sapevo se no quando il cucciolo infatti i cuccioli devono stare attenti a essere predati da serpenti e altri uccelli rapaci come potrebbero essere le poiane o le aquile ci tengo a dire una cosa fa qua non è un gufo viene spesso confuso col gufo e con la civetta non è nemmeno nell'altro è un barbagiani è vero che fa parte della stessa famiglia è vero che anche lui un uccello rapace notturno però è ben diverso da altri due e si distingue facilmente ovviamente degli uccelli rapaci diurni che potrebbe essere poiane aquile avvoltoi condor i rapporti con l'uomo estremamente benevoli pacifico ovviamente se provocato può mordere e bisogna stare attenti perché comunque sempre un uccello rapace si avvista di notte quindi non è così facile avvistarlo per un essere umani però è considerato un animale benevolo proprio perché uccide prede che hanno essere umani potrebbero risultare nocive nella cultura di massa nella cultura popolare però è simbolo di sfortuna e di malessere sostanzialmente per due motivi primo motivo perché si considerava il cibo che andava a cacciare topi nei cimiteri case abbandonate quindi luoghi associati spesso alla morte e alla sfortuna oppure anche perché siccome bianco e anche notturno veniva scambiato per un fantasma l'ignoranza della gente può essere molto grande compare anche in un dipinto ottocentesco della della pittrice inglese valentine cameron princep questo è vero che questo quadro si chiama the whole vale a dire il gufo però presenta chiaramente una dama con un barbagianni e compare anche in un film che si chiama il regno di the whole la leggenda dei guardiani in cui c'è questo soren che chiaramente un bar il protagonista che chiaramente un barbagianni e basta di questo film non l'ho mai visto però narra di questa di questi uccelli e come anche civette gufi grazie a tutti e rimanete sempre aggiornati per nuovi video sugli animali